Una maxi operazione contro lo sfruttamento della prostituzione ha interessato dall'alba di oggi i carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila che in collaborazione con i comandi provinciali di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Terni hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 17 persone fra Abruzzo, Marche e Umbria. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata a favorire l'ingresso irregolare di cittadine extracomunitarie e sfruttamento della prostituzione. In base all'ordinanza emessa dal GIP distrettuale dell'Aquila sono stati apposti i sigili a tre agenzie di affari artistici e teatrali e quattro locali notturni all'Aquila, Macerata, Ascoli Piceno e Terni. Le indagini sono state svolte dal reparto operativo nucleo investigativo sulla base di precedenti verifiche avviate dal nord della Compagnia dell'Aquila in locali notturni della zona. È stato possibile individuare un sodalizio criminoso composto da quattro impresari artistici e nove gestori di locali notturni attivo dal 2010 in Abruzzo con ramificazioni in Lazio, Marche e Umbria. Grazie a intermediari residenti in paesi del Centro e Sud America, i soggetti ottenevano attraverso falsificazione dei documenti il visto d'ingresso e l'introduzione in Italia di giovani donne provenienti da Cuba, Venezuela e Filippine avviate poi alla prostituzione in locali notturni. Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri finalizzata a smantellare una presunta organizzazione accusata di essere dedita allo sfruttamento della prostituzione che ha interessato anche Viterbo, dove finora sono stati eseguiti tre arresti. Secondo quanto si è preso, venivano fatte prostituire numerose giovani in alcuni appartamenti del centro storico della città che sono stati ora sequestrati.